Ragazzi, oggi siamo a Malcesine, intanto c'è un gattino lì, è una località sul lago di Garda. È un paesino barra cittadina molto molto bella, infatti ve la consiglio. Ora stiamo andando a visitare, almeno da fuori, questo castello qui che vi ho appena inquadrato. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ragazzi, adesso andiamo a mangiare al ristorante Italia da Nicolás. Ragazzi, adesso siamo arrivati in un ristorante che sembra davvero bellissimo. Cosa che ho preso? Linguine, gamberetti e zucchine. Ho preso le linguine con i gamberetti e le zucchine. Quando arrivano ve le faccio vedere. Buon appetito. Ok ragazzi, siamo appena usciti dal ristorante. Abbiamo mangiato benissimo, quindi ve lo consiglio. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ve l'ho già detto, se andate sul lago di Garda vi consigliate questa località perché c'è un panorama davvero stupendo. Questo video non è durato tanto anche perché sono riuscito a fare un po' di video, ma neanche tantissimi. Però ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e se volete lasciate anche un commento su cosa ne pensate del video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.